Ciao amici di MyFastbook, oggi parliamo di libri sotto l'albero, parliamo di regali. Se avete degli amici, amanti degli animali e non sapete cosa regalargli, allora che ne dite se sotto l'albero gli fate trovare il libro Un umano per amico di Vent Verga, edito da Corbaccio. Basato su 25 anni di esperienza dell'autore come veterinario, un umano per amico indaga la vita interiore degli animali, dalle balene ai lupi, dai leopardi ai pappagalli, dai cani ai gatti, e analizza le relazioni che noi umani stabiliamo con loro. Relazioni che sono sempre improntate alla reciprocità e che per questo arricchiscono sia noi sia i nostri amici animali. Verga in cui all'età di veterinario ha sempre cercato di porsi dal punto di vista degli animali e questo gli ha insegnato a vedere e rispettare quella comunione di fondo che lega tutti gli esseri viventi e che, se sappiamo percepirla, può arricchire la nostra vita, rinforzare il nostro carattere, evidenziare i valori autentici e approfondire la nostra spiritualità. Questo libro sarà sicuramente un regalo molto apprezzato dagli amici degli animali. Io quest'anno metterò sicuramente un libro sotto l'albero. E voi? Buona lettura!